Salve, sono Emanuele Mili, osteopata e ideatrice del metodo GM5 di ginnastica. Oggi parliamo della respirazione. La respirazione è importantissima e viene apprezzata in maniera paradossa, cioè se noi rimaniamo senza respirare possiamo sopravvivere soltanto 3 minuti più o meno. C'è chi riesce a stare in apnea anche di più, però il livello di massima è 3 minuti, mentre se non mangiamo ci riusciamo a sopravvivere 40 giorni e se non beviamo qualche giorno. La respirazione che cosa fa sul nostro corpo? Ottimizza le funzioni del corpo fisico, perché fa funzionare meglio tutti gli organi, del corpo energetico, perché attraverso la respirazione fluisce l'energia nel corpo e quindi si possono anche rimuovere i ristagni di emozioni distruttive con la respirazione e ottimizza le funzioni del nostro corpo mentale. Quindi con una sana respirazione corretta la nostra mente lavora in maniera più armonica, lineale e funzionale. Che cosa possiamo fare noi per valutare se respiriamo meno correttamente? Un esercizio molto semplice e molto utile. Pronunciamo una vocale, inspirando, cioè prendendo tanto fiato profondamente buttando fuori gradualmente tutto quanto il fiato e vediamo quanto tempo dura questa espirazione e questo suono che emettiamo. Se questo suono è tronco, cioè è spezzato, vuol dire che usiamo male di aframma. Se facciamo fatica a compiere questo esercizio, lo stesso, stiamo respirando male. Che cosa vuol dire respirare male oltre che non ottimizzare le funzioni del corpo fisico, energetico e mentale? Vuol dire non mandare a tempo i tre, anzi i quattro diaframmi del corpo, diaframma pelvico, toracico, toracico superiore e tentorio del cervelletto. Quindi l'osteopata vi può aiutare ad ottimizzare questi diaframmi. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana. Arrivederci!